Il suo spessore è fantastico e la qualità che abbiamo avuto. Questa abbiamo appena restaurato, dopo due anni di restauri, è concentrato con nuove tecnologie al laser. Un genio nato frusta ritualmente la fanciulla, è un rito di passaggio e diventa mena. Quindi entra nel mondo dell'eros, dell'amore. La cosa incredibile di questi volti è che sembra la pittura dell'ospedale. ...che lasciavano di fronte a me la data. Quindi collando il gesso, noi raffidiamo l'ultimo momento di un'intera di... ...questi sono, per esempio, se dentro c'erano le schede, e il gesso ricrea i tessuti anche di stile. Sono nell'esatta posizione del mio modello, che non sono mai stati esporti. ...con le scarpe da girare. ...e come si indagina in un'architettura esterna e si richiede l'intera. Questo va di moda nel mondo romano nel primo secolo dell'Ontrino. ...chiaro che la manutenzione è questa oltre. ...in graduato di Toscano. ...Foggia? ...Fleccia. L'abbiamo preso anche loro perché siamo democrazioni. Il mare si è allontanato con l'evoluzione, perché c'è stata una sorta inizionale. Oltre, cioè in un po' di più, sono in un po' di più. ...Irlanda. Oltre, oltre oltre? Irlanda. molto bene, il mio amico, il Prime Minister, è il mio amico buon amico Buongiorno, da dove sei? Russia Tu capisci? Tutta la mia comprensione Giovane? Io Anni? 46 53 7 anni e 5 figli? 8 anni 54 5 5 5 6 6 8 8 10